dunque la svizzera da qualche tempo è impegnata nel tentativo di dare una nuova immagine di sé al mondo al mondo economico finanziario per cancellare ovviamente alcune chiamiamolo così ombre del passato legate essenzialmente a questi profili fiscali e finanziari e in questo senso la svizzera si sta adeguando e si avvicina alle raccomandazioni internazionali da ogni punto di vista e a questo proposito ha deciso di dotarsi di un registro dei titolari effettivi e seguendo appunto le indicazioni dei principali organismi internazionali e quindi garantendo che le autorità competenti possano informarsi in modo rapido attraverso un registro centralizzato di chi sia il titolare effettivo a cui fa capo una persona giuridica o un ente il registro è pubblico ciò non significa però che sia diciamo così aperto al pubblico è pubblico in quanto è gestito da un'autorità avente una natura pubblicistica quindi non è gestito da organismi privati e come abbiamo detto poco fa è un passo avanti importantissimo della svizzera nell'apertura alle raccomandazioni internazionali ma questo va ribadito pur essendo un registro pubblico non è accessibile a tutti bensì soltanto a chi ne abbia interesse e sia in grado di documentarlo in maniera formale e rigorosa gli aventi economicamente diritto sono quelli che nel gergo nostrano chiamiamo i titolari effettivi non dimentichiamo infatti che questo adeguamento della svizzera a questo registro non fa che essere essere un ribadire quanto tutti gli altri paesi hanno già fatto ad esempio anche l'italia sia adeguata questa normativa italiana già entrata in vigore quindi gli economicamente aventi diritto sono i nostri titolari effettivi sono i soggetti che hanno una partecipazione pari almeno al 25 per cento del capitale dell'ente di cui si sta parlando qualora non sia possibile determinare tale livello di partecipazione si fa riferimento al soggetto che formalmente sia il responsabile o comunque più alto il più alto in grado della società o dell'ente di cui si parla e cambierà nel senso che dovranno adeguarsi a questa prescrizione normativa dovranno quindi entro un termine che verrà stabilito dalla legge anche perché non dimentichiamo che al momento abbiamo una proposta di legge che il parlamento svizzero vaglierà entro il 2024 quindi non stiamo ancora parlando di una legislazione vigente in svizzera ma quando la legge sarà approvata dal parlamento svizzero le società o gli enti già operanti in quel paese dovranno adeguarsi quindi darvi attuazione ottemperare a quello che prevederà la legge e quindi comunicare all'autorità competente il soggetto rilevante vale a dire il titolare effettivo possiamo dire che in linea generale essendo tutti i soggetti economici interessati possiamo anche dire che tutti i soggetti saranno toccati da questa novità va da sé che maggiormente lo saranno i soggetti finanziari o le società di questo tipo quindi le società aventi risvolti appunto bancari finanziari saranno toccati anche tutte le entità quali possono essere i trust le fondazioni e comunque tutti quei soggetti che operano sia nella gestione del risparmio sia anche nella gestione delle partecipazioni e quindi anche nei rapporti tra persone fisiche e persone giuridiche la figura del consulente è decisiva quando parliamo di consulente parliamo di un soggetto che per così dire intermedia pur non essendo formalmente un intermediario ma intermedia tra gli enti economici di qualunque tipo essi siano e le autorità ebbene in questo caso il consulente sarà appunto decisivo perché sarà il soggetto che dovrà fornire tutte le informazioni necessarie che dovrà accompagnare l'ente nella ottemperanza a quanto previsto dalla legge che entrerà in vigore sarà il soggetto il consulente che dovrà aiutare l'ente che sia appunto una fondazione che sia una società dei capitali che sia un ente di altro tipo ebbene il consulente dovrà accompagnarlo in questo percorso per aiutarla ad essere compliant totalmente d'altra parte è questo lo spirito di questa nuova normativa quello di come dicevamo in avvio far sì che la svizzera sia totalmente allineata a quelle che sono le prescrizioni le prescrizioni internazionali a questo proposito e dobbiamo dire che con questo registro chiamiamolo così del titolare effettivo o degli aventi economicamente diritto la svizzera sarà praticamente totalmente in linea con quanto previsto dalle linee internazionali e con quanto stanno facendo tutti gli altri paesi europei ad oggi